Possiamo iniziare? Non prima che arrivi la nostra socia. Socia? Allora, qual è questo messaggio dal Messico così importante da trascinarci tutti qui? Il cartello di Navarro è stato messo al corrente da te, Darlene, del fatto che hai intenzione di iniziare a produrre di nuovo eroina e siamo stati incaricati di comunicarti di non farlo. Noi siamo solo dei messaggeri. Voi siete due celebrità. Userete la vostra influenza? Io mi ritererò dai miei affari. Sarò libero dalla minaccia di arresto o di essere ucciso. E potrò muovermi liberamente negli stati metti. Omar Navarro vuole fare un accordo con l'FBI. Cosa ci vuole? Più di quanto vorrebbe dare. Fatelo e sarete liberi da ogni obbligo con me. Se non vuoi proteggere la mia famiglia non proteggerò la tua. Non lo sai che è pazza. E se tu venissi a riciclare per me? Cristo, riciclaggio ha 14 anni. In questo momento non puoi esserne fiero. La tua più grande minaccia arriva sempre dall'interno, Marty. Non te lo scordare. Allontanatevi! Allontanatevi! Ruth. Non fatevi ammazzare. Come se ci tenessi. ci vediamo! No vevo. no. Beh! le diverse